In queste ore all'Istituto Spallanzani è stato isolato il virus coronavirus, quindi questo nuovo virus. È una notizia molto importante, di portata globale direi, che testimonia ancora una volta l'eccellenza dei nostri ricercatori, delle nostre squadre, del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Aver isolato il virus significa avere molte più opportunità, molte più chance di poterlo studiare, capire, e di poter verificare meglio che cosa si può fare per contrastarne la diffusione. A questo punto quello che vedete qui è praticamente quello che abbiamo visto a meno di 24 ore dalla semina del campione biologico. Queste sono le cellule non cimentate con il campione biologico, vedete sono cellule regolari, stanno bene, e queste sono le cellule, sono cellule vero, esposte al virus dopo 24 ore dall'esposizione. Si sono infettate, sono sofferenti e questo si chiama effetto citopatico, è la testimonianza che il virus è nella coltura e sta crescendo. Quindi il virus è stato anche al momento parzialmente caratterizzato, è identico a quello cinese. Avere a disposizione il virus e avere a disposizione un sistema di crescita, di coltivazione in vitro ci dà uno strumento per perfezionare l'attuale diagnosi che è molecolare e poi avere a disposizione il virus in un sistema di coltura ci permette di provare farmaci in vitro, di avere grandi quantità di virus che può servire per la messa a punto di un vaccino oppure di antigeni, di preparazioni che poi servono alla diagnostica.